... ... Incontro Vite! Wolf! Ehm... No, Simon! Quindi abbiamo questo primo match, sempre delle pull, con notti contro Serra, notti con Wolf e Serra con il suo Simon, e quindi buon limitio per Serra che ha già accumulato con il 53%, 60 post-drop, contro il 25% raccato da Bardaino, ora provo un po' di space in Scamper, con Neutral Gear, moltamente forte, di Wolf, uno dei proiettili migliori dei miocchi, non forse addirittura il milione in questo momento, comunque vantaggio per Serra che... ...d'ok, in maniera molto aggressiva, dobbiamo volerci a convertire in questa affascanza, ma comunque riesce a mantenere un buon vantaggio, niente, niente, niente di poter greciar, buon down-air, dopo che non converte a drone niente, non trova nessun follow-up, F-Man, uh, buona Riggs, ma lo becca con l'Hit-Boss, la seconda hit-Boss dell'Hit-Boss dell'Hit-Boss di Simon, dei Belmondi, dei Belmondi in generale, quindi non riesce ancora a ridare, non ha più spottato, comunque, ora non si è riuscita a ritornare in una situazione in parità con Serra che, quindi, sta trovando, diciamo, un'ottima ascia, e questo bag con il piccolo troll, per far vedere chi comanda qua, vediamo se verrà poi punito da questo, dall'idea del karma, quindi 40%, quanto pareva, uh, ottima di Smash, gli outspacer di Job di Simon, quindi, non si trova abbastanza di fretta a questa storia, pensiamo, nella situazione di buon vantaggio per Serra che, comunque, eh, che comunque, anche prima non era riuscito, non era riuscito comunque a 3 sui solo story, quindi, vediamo se non si riuscirà a recuperare, non ne ha messo benissimo, non può riuscire a switch spottare questo slam, ma 5 è stato buona, buona ascia! seguire, approvazione di Shuggle, e al passato, eh, ha! diciamo, 1,2, 2,3, decendo di 5,9, a 37, ascia non converte dalla, 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 dalla scrocio! il Dair antigravitazionario! che lo fa gravitare, mettiamo quindi l'assortico Bear, Mer, che treida con l'Effield, buona Asha che prende il landing di Nocchi, che non sempre riuscirà a trovare un modo efficace per atterrare, già la seconda stop che se Riesce a prendersi così, buon laser che trova il... che prova a mangiare il salto di Serra che non lo sprega, quindi ora, di nuovo, situazione uguale al primo stop di Serra con un 85% sul secondo stop, Nossi che prova con un 40% prova a, non lo so, buona Qua Santilla on Smash. Ora, situazione brutta, Nossi che comunque riesce a darla con 6D, 105% sul Serra, 98% sul nostro, Serra sembra aver trovato, diciamo, il ritmo giusto, sembra essere pronta a portarsi a casa a questo punto da meno, e ora, prova la Smash, viene punito a un... il cuore aggiunto di un vantaggio per Serra, che ora... fa un po' di Dash Dance, insomma, perchè... non so che modo, è andato benissimo, lo colpisce con lo sweet spot ed è 1-0 per Serra. 1-0 per Serra. 2-0 per Serra. va su Pokémon Stadium 2, quindi i Stage Neutricks sono per la Destination Smash with Battle, che il Pokémon Stadium 2 è il sistema Lylat i Counterpick sono Yoshi's Story, Yoshi's Island, Unova, Kalos, Kalos, Finchia e Kalos quindi vediamo poi il Counterpick su Pokémon Stadium 2 è il Counterpick da parte di Noski, come un po' se riuscirà a fare un inizio a parte di Serra, che sono i soliti 43 di Noski, che ora si forse già, è così e Serra sta leggendo molto bene le opzioni difensive di Noski e riesce a capitalizzare su questo, Bomber Bear, niente Edge Guard ci trova il Edge Guard con il Bear angolato come più basso ma non trova comunque il super singolo frame con cui può punire il regolamento vuole il Downair, vuole poter punirlo oh no, l'ha mancato e si sfida così, perché il Bear non... la Teber non funziona e quindi, presumibilmente la troppo vicino, troppo in alto poi lo trova quasi lo stock e lo trova con l'Aqua Santa in Earth Smash, in Earth Teal è vero dunque, Acqua Santa in Earth Teal, con Earth Teal Smash, buona approach in Earth Teal buona approach in... cioè se Serra non si è fatto minimamente, diciamo, destabilizzare la qualsucidia, ecco e si è già riportato in vantaggio, con un buon 63% che diventa 61 con questa croce un uovo pulito, questo è un ottimo X Smash che è kiffera e quindi provo uno stock più velocissimo Serra che sembra avere il momentum in ma... tutto il momentum del mondo è il match in mano l'altro prova il Bear non connette il Bear non connette nel Bear ma comunque Serra sta giocando molto bene è stata facendo vedere chi comanda per poi suicidarsi come un pollo e poi tonta giustamente due SD in un singolo game segno di nota e quindi comunque ha dalla sua il fatto che comunque sta soltanto i decidi sta giocando molto bene e ha un vantaggio discreto speriamo che questi sono i costi in match potibili e potenzialmente ad escure XS è perchè Nossi in questo momento sta recuperando il leggero svantaggio cavallo però c'è che clanca con il... clanca con il plaster un'altra che motta veramente... ottimo! oh è ottimo! fail angolato verso il basso che forza Serra su 2 a 0 e quindi Serra si chiudica così questo set è tutto